Ciao a tutti e benvenuti in questo video, sono Fabrizio Iosa a Cloud Architect Press Oracle ed oggi andremo a scoprire insieme 5 cose che non conoscete su Oracle Cloud. Numero 1. Ruolo chiave all'interno di Oracle Cloud è quella che viene definita Offbox Virtualization. Come ci suggerisce il nome, tutte le operazioni di virtualizzazione vengono posizionate a livello di rete, garantendo così alle risorse cloud delle vere e proprie bare metal performances, ossia delle macchine virtuali senza alcun software preinstallato. Numero 2. Ciò che differenziano il cloud di Oracle sono sicuramente le decisioni effettuate a livello di network. Oracle Cloud fornisce ai propri clienti un flat network design in grado di ridurre ad un massimo di due gli ops necessari per passare da una risorsa cloud ad un'altra all'interno dello stesso ability domain. L'interazione tra questi ultimi risulta quindi essere minima. Numero 3. Il traffico dati cross availability domain è totalmente gratuito. Questo significa che potete realizzare le vostre architetture posizionando le risorse in diversi availability domain senza pagare alcun costo sul traffico di quest'ultime. Inoltre sappiamo quanto è importante collegare la propria struttura on-premise con una rete virtuale in cloud ed anche qui il traffico è totalmente gratuito in ingress, mentre in egress è gratuito fino a 10 terabyte mese. Numero 4. L'infrastruttura Oracle Cloud offre un isolamento di rete ai propri utilizzatori e tramite l'utilizzo di SmartNIC progettate su misura per isolare e virtualizzare la rete impedisce a qualsiasi malware all'interno di un'istanza compromessa di passare alle stanze di altri clienti. Numero 5. Tutte queste funzionalità e benefici discussi fino ad adesso sono supportate da un impegno esplicito a livello di service legal agreement. Quindi che dire, non vi resta che provare, riscattare il vostro free tier e seguire le nostre prossime video pillole per imparare in modo semplice e veloce a realizzare i vostri progetti su Oracle Cloud. Vi ringrazio per la visualizzazione, ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao! Ciao!